Dottore, lei questa mattina si è sottoposto a vaccinazione anti-Covid, come è andata? Benissimo, la consiglio a tutti. Prosegue negli ospedali della provincia di Sondrio la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 dei medici di medicina generale che indicativamente da metà febbraio a loro volta somministreranno il vaccino ai propri assistiti più fragili. Oggi numerosi professionisti che hanno raggiunto i presidi sanitari per sottoporsi a vaccinazione ad aderire circa l'80%. Lunedì ATS della Montagna raccoglierà le adesioni dei medici di base che si sono inoltre resi disponibili a vaccinare le persone appartenenti alle categorie a rischio, quindi l'Agenzia di Tutela della Salute pianificherà la campagna sul territorio. Io credo nelle vaccinazioni e in questo momento mi sembra l'unica arma che abbiamo per combattere questo virus per cui invito tutti a farla senza problemi. Una decisione maturata anche dopo quello che avete vissuto in quest'ultimo anno? Dopo soprattutto quello che abbiamo visto, cosa succede col Covid, cosa può capitare perché non tutti sono fortunati, alcuni dopo il Covid, alcuni purtroppo muoiono ma alcuni hanno anche grossi problemi dopo. È forte il senso di responsabilità anche nei confronti dei suoi assistiti ma della collettività più in generale? Ma certo, per gli assistiti tutti ma anche per se stessi perché puoi dare più sicuro anche a vedere i pazienti. Oggi la vaccinazione poi sarà lei a farle successivamente? Sì, abbiamo dato l'adesione, siamo gruppo a Valmalenco e lo faremo assieme. Dottore, ci sono controindicazioni? No, se uno non è allergico alla vaccina assolutamente. Secondo me è assolutamente indispensabile che la facciano tutti nel più breve tempo possibile perché è l'unico modo per interrompere la trasmissione del virus e forse cominciare a intravedere un po' uno spiraglio all'orizzonte. Dottore, quando inizierete voi a fare le vaccinazioni ai vostri assistiti? È tutto in fase di organizzazione, è già stato firmato il contratto per fare 4 milioni e mezzo di vaccini entro ottobre da parte dei medici di famiglia in Lombardia. Adesso i distretti ci hanno chiesto l'adesione, lunedì entro mezzogiorno diamo il totale dei medici, le sedi e quindi partiremo non troppo tardi neanche noi. Entro il mese di febbraio? Sì, spero proprio di sì, certo.